Ci troviamo in Valtiberina, a Retina. L'incidente è avvenuto attorno alle 17.30 all'interno di una ditta di prodotti per macchine agricole. Un operaio, un 35enne di San Giustino Umbra, è stato folgorato mentre stava lavorando ad un macchinario da una forte scalica elettrica. L'operaio in quel momento sembra, stanno le prime indiscrezioni, stesse allacciando il macchinario alla corrente elettrica. Che immediatamente sono stati allertati i soccorsi della 118 da parte dei colleghi della giovane, sul posto sono quindi arrivati poco dopo. Il 35enne, un dipendente di una ditta esterna, ha riportato alcune ustioni sulle mani. In un primo momento aveva anche perso conoscenza, è stato portato in codice giallo all'ospedale Fiorentino di Careggi ed in volo si era alzato anche l'elissoccorso Pegaso per un eventuale trasferimento al centro specializzato per grandi ussionati. Ancora però non è chiara l'esatta dinamica dell'incidente. Per adesso è tutto. A te la linea.